Un'altra classica del beach soccer italiano quando siamo giunti ai quarti di finale della Coppa Italia attende la Domus Bet TV Catania Beach Soccer opposta all'Epicar San Benedettese sfida già giocata e vinta di slancio dalla roster di Fabrizio Santos all'esordio in campionato, gara da dentro fuori, quella che si gioca la Beach Stadium Arena di Torrefaro quando passiamo al racconto della gara al terzo, conclusione di Bocchigna non vi arriva Raffaele Silva, prima a Visaglia per la porta di Raffaele Padiglia che capitola sul gran tiro di Paterniti deviato da B Martins Catania un po' contratto ma ci pensa Roberto Caic al settimo con una rovesciata delle sue anche tallonato in volo, palla che sbatte sul palo e termina alle spalle di Paterniti ritrovata la parità il Catania alleggerisce la tensione e chiude all'attacco al nono conclusione di Raffaele Padiglia destinata all'incrocio dei pali ancora Paterniti toglie la sfera dal 7, il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1 un gol per parte, risultato complessivamente giusto per quanto visto nei primi 12 di gioco secondo tempo che inizia subito bene per il Catania intervento di Micelli su Catarino giudicato a falloso dall'arbitro Fiammetta da cui scaturiscono le proteste del numero 3 già munito e quindi espulso la trasformazione che ne segue è glaciale, Catarino firma il gol del sorpasso rossazzurro Catania che potrebbe allungare al terzo con Farina che ci prova dalla grande distanza decisivo l'intervento di Paterniti nel prolungare la sfera sulla traversa Samb che non molla la presa, al quinto Paterniti sfiora la doppietta fondamentale l'intervento di Padiglia che devia la sfera sul palo Legno che tuona anche al nono minuto con la traversa piena centrata da Bocchigna al decimo Catania che si riaffaccia nuovamente pericolosa Padiglia, palleggia e calcia Paterniti risponde ancora una volta presente poi il tap-in di Perciamontani sulla base esterna del palo doppia chance all'ultimo giro di lancette per Ben Martins Paterniti non si lascia sorprendere in entrambe le circostanze volge al termine la seconda frazione di gioco caratterizzata dalla rete in apertura di Catarino qualche brivido corso dalla retroguardia rossa-azzurra che tiene botte e mantiene il prezioso vantaggio di una rete terza ed ultima frazione che si apre con la ripartenza della Samb che spreca la ghiotto opportunità di riportare il match in equilibrio con il diagonale di Bocchigna che si spegne a lato la risposta rossa-azzurra è affidata all'estro di Ben Martins conclusione mancina che chiama Paterniti ancora all'intervento al secondo l'allungo decisivo Raffael Padiglia serve un pallone con i giri giusti per la rovesciata di Joseph Junior che stavolta fa secco Paterniti per il gol del 3-1 Samb che non demorde vicinissimo al gol con De Baptiste frenato dall'ennesimo palo ancora il classe 2004 prova in tutti i modi la gioia della rete al quarto Padiglia rispedisce al mittente Catania che gestisce, amministra e colpisce a 17 secondi dalla fine con il punto esclamativo di Fabio Denisi conclusione all'angolino precisa e imparabile per Paterniti che di fatto mette la parola a fine al match San Benedettese che prova a rendere meno amara la sconfitta ma è ancora una traversa stavolta colpita da Mascaro a negare il 4-2 finale Domus Bet TV Catania Beach Soccer che stacca il biglietto per le semifinali alle 21.15 sfida contro il Città di Milano ultimo ostacolo che manca alla 31esima finale della storia rossa azzurra